Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Abbiamo il piacere di avere quest'oggi in studio Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno, che saluto e ringrazio. Grazie a voi. Ben trovato, presidente. Tanti temi da affrontare assieme, ma partirei da quella che è la questione centrale per il nostro territorio, ossia la partita olimpica. Abbiamo visto in questi giorni tante notizie che si sono talvolta anche un po' contraddistinte una con l'altra e contraddette una con l'altra. Insomma c'è un po' di incertezza sulla questione della pista da Bob olimpica. Che cosa, secondo lei, su che cosa puntare dunque? Intanto è da puntare sulla grande visibilità che avremo come nome, perché le Olimpiadi si chiamano Milano-Cortina, quindi tutte le volte chi nel mondo segue le Olimpiadi vedrà Cortina, chiederà che cos'è Cortina. Cortina è in provincia di Belluno, è nelle Dolomiti, quindi già un grande vantaggio. Io non voglio scendere pista sì, pista no da Bob, perché qualcun altro deciderà e anche quello che dico io sarebbe sterile. Dico che per Cortina e per la provincia di Belluno e permettetemi, per tutto il Veneto è una grande opportunità questa Olimpiade invernale, perché abbiamo oltre alle Olimpiadi le Paralimpiadi e le Paralimpiadi sono importantissime, sono indispensabili a un tessuto sociale come quello di Cortina. Per due motivi, uno perché ci deve essere una sensibilità verso la disabilità, in maniera particolare tutti i popoli del nord sono sensibili alla disabilità e quindi vengono in maniera notevole in quegli ambienti dove ci sono l'abbattimento delle barriere architettoniche, dove c'è un'attenzione al disabile. Ogni disabile minimo porta altri tre con sé, quindi è un numero consistente. Detto questo, proprio su questo aspetto vorrei pubblicizzare quello che lunedì 30 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, in Fiera di Longarone c'è una manifestazione, una tavola rotonda molto interessante che parla di turismo, di sostenibilità e di accessibilità e il titolo è esplicativo di queste cose. Turismo guardiamo oltre, noi dobbiamo veramente guardare oltre, avere il coraggio di cambiare anche certi nostri paradigmi, perché il mondo corre in una velocità assurda a volte per noi esseri umani, però noi dobbiamo seguire questo. Anche perché sappiamo che comunque il sistema dell'ospitalità, gli albergatori hanno investito, si sono già attivati molto sul tema dell'accessibilità. Certo, infatti prospettive di accoglienza sostenibile e accessibile. Lei prima, proprio i miei albergatori, c'è un problema? Il problema è che noi già da due anni stiamo lavorando per trovare i posti letto per queste Olimpiadi che comprendevano anche il Bob e le discipline a questo affiancate. Se vengono meno abbiamo fatto un lavoro per niente e i nostri albergatori hanno dei problemi, quindi questo è un problema che va risolto in qualche maniera. Non possiamo poi pensare che nella piena stagione vengano svendute dei posti letto. E infatti la partita ulteriore è quella appunto del villaggio olimpico, come dice lei, la questione Fiammes ma anche Borca di Cadore. Borca di Cadore, io da sempre sono stato favorevole guardando il problema idrogeologico, guardando la situazione nel suo complesso. Però abbiamo una struttura, se si riesce a poter trovare un accordo con la proprietà e tutto funziona dal punto di vista idrogeologico e sismico, perché no? Borca potrebbe essere un luogo ideale per tutte quelle maestranze dopo le Olimpiadi che non trovano posto e che potrebbero trovare posto lì per San Vito, per Borca, per Cortina stessa, anzi per Cortina prima di tutto. E quindi ecco che abbiamo raggiunto due obiettivi. Il villaggio di Fiammes viene fatto e viene smantellato. Questo rimarrebbe nel territorio e mi pare una cosa estremamente interessante per tutto il territorio. E quindi anche lei sposa il sì insomma Borca di Cadore. Senta Presidente, su questo comunque continuiamo ad occuparci di turismo, il convegno che infatti voi presenterete lo stato dell'arte che si terrà alla birreria Pedavena il 27 ottobre a partire dalle 19 con i principali protagonisti, attori di questa partita a cominciare da Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale del CONI. Sì, lo stato dell'arte è il titolo di questo convegno che viene tenuto proprio venerdì 27 ottobre alle ore 19 presso la birreria Pedavena nella sala degli elefanti. L'ingresso è gratuito, io spero ci sia veramente un'affluenza notevole perché si parla di cose che toccano il nostro territorio. Tra l'altro qui leggo che c'è Giovanni Malagò ma ci sono i sindaci di Cortina, di Belluno, di Feltre, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale italiano. Lei stesso sarà fra i relatori? Io sono come attività imprenditoriali insieme al mio collega di Confindustria, quindi abbiamo veramente una visione a 360 gradi. Chi viene potrà sentire se c'è qualcosa di nuovo, se abbiamo delle prospettive reali. È quello che a noi interessa e quindi questo convegno che è stato organizzato dai Rotari Veneti e dalla Panathlon di Padova è veramente un'opportunità da non perdere. Ecco, per la cittadinanza è importante informarsi, partecipare e essere coinvolti nella questione che sappiamo essere di prima importanza. Senta Presidente, rimaniamo sul turismo perché proprio oggi in provincia di Belluno si è aperto il nuovo ITS Academy Turismo Veneto dedicato alla montagna bellunese, al fare turismo in montagna. Voi siete fra i partner di questa progettualità. Siamo fra i partner e anche di quelli che hanno sollecitato più di tutti la partenza di questo master. Si torna ancora una volta a parlare di qualità e di turismo. Per fare qualità e turismo ci vuole anche formazione, ma una formazione alta. Non ci si può più accontentare del fai da te. Abbiamo bisogno di studi e questi giovani, sono oltre 20 che partecipano a questo master, potranno essere degli strumenti ideali per l'incoming nei nostri territori dal punto di vista turistico. È una bella cosa che dei giovani siano qui da noi. È una bella cosa che la sede sia in camera di commercio, che è la casa comune di tutte le categorie imprenditoriali. E quindi io auguro veramente a questo master ogni bene e che sia il primo di tanti altri. Solo con la formazione al giorno d'oggi possiamo competere con i nostri concorrenti mondiali. Non sto parlando di Italia. Il turismo ormai è mondiale. Certo, Presidente, che per fare turismo, per vivere la montagna, per fare commercio in montagna, sono necessarie anche le infrastrutture. Qui apriamo una pagina dedicata, per esempio, al cantiere di Formegan, per il quale voi avete sollevato alcune criticità su questa attività. Ma è un'assurdità. Guardate, è un'assurdità che ANAS e Ferrovie dello Stato, che fanno parte di uno stesso gruppo, non dialoghino e fanno un qualche cosa che danneggia profondamente il nostro territorio. E non sto parlando solo delle attività, la gente comune che deve muoversi. Allora, il buonsenso, come sempre dovrebbe farla da padrone, facciamo come prima, blocchiamo quella linea di treno fin tanto che i lavori sono finiti. Quindi abbiamo una piccola difficoltà di aria, però superabile, ma non quel blocco, movieri o non movieri che qualcuno ha detto ci saranno. Non basta, perché quando si crea una coda in certe ore del giorno, magari di chilometri, il moviere non può fare niente. Il moviere è colui che si mette lì a dire passa, non un semaforo per spiegarci. E allora dobbiamo in qualche maniera risolvere questo problema. E quindi questa è la sollecitazione. Ma deve essere risolto subito. Io mi appello veramente ai funzionari delle ferrovie e dell'ANAS in maniera particolare. Guardate un attimo gli interessi del territorio, cercate, tanto cambia niente. Proprio per difendere anche chi opera in montagna, che sappiamo, lei lo ha detto più e più volte, il valore sociale che hanno anche questi negozi, queste piccole realtà per far vivere i territori. Sono indispensabili. Io sono il responsabile in Italia delle politiche della montagna per confcommercio nazionale. E quindi ho un panel di visione di tutta l'arco alpino e appenninico anche. Quindi ritengo che se vogliamo evitare lo spopolamento abbiamo una strada solo da scegliere. Far vivere la gente in montagna, far sì che possano fare dei figli. A questo punto ci deve essere un welfare adeguato. Ci deve essere un sistema di sostenibilità economica. Un'attrattività, perché tutto sommato qui da noi si vive molto bene. Infatti la nostra provincia è attrattiva, secondo lei, Presidente? È attrattiva per se ci sono certe infrastrutture. Quello che si parlava prima, una viabilità veloce, un welfare adeguato per le donne che lavorano, per i bambini. L'asilo nido e l'asilo anche per le scuole primarie, il tempo prolungato nelle scuole primarie. Io vedo che i bambini sono molto contenti quando possono fare questo. E dei costi accessibili. Questo è se vogliamo cambiare l'inversione in questa maniera. C'è uscito, sta uscendo, io ho qui il disegno di legge, per le disposizioni, per il riconoscimento e la promozione delle zone di montagna fatto per l'Italia. Ecco, la famosa legge di cui appunto si parla. La famosa legge dove sto guardando come mai il vecchio articolo 17 che era sui crediti di carbonio non c'è più. Mi informerò perché per la provincia di Belluno questa possibilità che era stata creata da Francesco De Betting, dall'ingegnere Francesco De Betting, è un qualche cosa di eccezionale. Era passata con l'altro governo, non la vedo più in questo disegno di legge. Sarebbe grave se non ci fosse. Questo però, disegno di legge, ha un grande vantaggio, che perlomeno si parla di montagna e di criticità sulla montagna. E si parla proprio di accessibilità, di strade, di scuola, di sanità, di ambiente silvopastorale e di aiuti. Diciamoci subito, 200 milioni stanziati per una cosa del genere in tutta Italia vuol dire pagare un caffè, non servono a niente. Il vantaggio è che perlomeno ne parliamo e sappiamo che c'è una criticità. Allora, se si sa che c'è una criticità che può tornare utile anche al mondo della pianura, perché quando ci sono dissesti idrogeologici, molte volte sono procurati da un non presidio nelle zone alte. Se la gente ci abita, probabilmente questo viene eliminato o comunque attenuato. E quindi l'auspicio che ci possa essere maggiore attenzione per i nostri territori montani e quindi il beneficio che ci può essere poi a conseguenza. Presidente, la porto su un ultimo tema, perché poi il nostro tempo purtroppo corre veloce. Sabato si aprirà anche la seconda edizione del Festival Belluno Città del Legno. Questo è un appuntamento importante, vero? Bellissima iniziativa. Anche questa promossa, patrocinata, aiutata da Confcommercio. Città del Legno è un nome che fa capire dove viviamo. come quando io continuo a dire che Belluno deve essere chiamata la capitale delle Dolomiti, proprio perché le Dolomiti si trovano in gran parte nella nostra provincia. Quindi questa manifestazione, che tra l'altro suscita un interesse notevole anche alle scolaresche, le vediamo passeggiare a guardare queste statue, a capire, a sentire il profumo del legno. E' il profumo del legno, è il profumo dei nostri boschi. E quindi l'identità. E i nostri boschi vuol dire turismo, vuol dire capacità di anche operare nel territorio in maniera giusta, corretta, sostenibile. E quindi benvenga anche questa manifestazione che parte a momenti e va avanti anche a un certo periodo. Grazie Presidente, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Io avrei ancora tante domande da farle, ma insomma per oggi chiudiamo qui. Buon lavoro Presidente. Grazie. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.